C'è un po' di aria agitata? Quando si parla di economia e si parla di bilanci l'aria è sempre agitata, anche perché le ristrettezze economiche che si ritrova a vivere l'Italia si ripercuotono sulle regioni, sulle province e quindi anche sui comuni. Mi sembra che parliamo di cose abbastanza scondate, abbastanza alla palissia. Certo, fino a che sono numeri rappresentano un'entità apparentemente astratta, ma quando poi i numeri si traducono in bisogni e quindi si traducono in disagi, in sofferenze, in preoccupazioni per le comunità, quei numeri da freddi simboli diventano problemi seri. Ecco, lei che situazioni ha trovato? Ma io ho trovato una situazione che al momento non è ancora definitivamente chiara, non è definitivamente chiara per una serie di dati. Il primo dato è che non è stata fatta ancora la verifica straordinaria di cassa, ma la verifica straordinaria di cassa non è stata ancora resa possibile in quanto le partecipate non hanno ancora... In realtà, in realtà, quei numeri da freddi simboli diventano, come dire, insomma, problemi seri. Ecco, lei che situazioni ha trovato? Ma io ho trovato una situazione che al momento non è ancora definitivamente chiara, non è definitivamente chiara per una serie di... per una serie di dati. Il primo dato è che non è stata fatta ancora la verifica straordinaria di cassa, ma la verifica straordinaria di cassa non è stata ancora resa possibile in quanto le partecipate non hanno ancora consegnato in maniera esaustiva tutta una serie di documenti che abbiamo richiesto. C'è una polemica comunque a distanza con l'ex inquilino di... In questo momento non possiamo prendere staffisti e quindi non possiamo prendere esperti esterni. L'unico esperto esterno che abbiamo preso in questo momento, al 50%, sia chiaro, di ciò che stabilisce il regolamento interno alla provincia, al 50%, in quanto, tra l'altro, io sono occupato su due settori, sia come sindaco sia come presidente della provincia, dovete spiegarmi come posso io, da solo, far fronte alle innumerevoli problematiche che sono presenti, sia nel mio comune di Sarno, sia nella provincia. Devo aggiungere, e sia chiaro, deve essere chiarissimo, questa scelta è anche il risultato della legge del Rio. Cioè, se... e degli emendamenti e dei collegati a questa legge, se il 50% dei dipendenti della provincia, a cui va tutta la mia stima, tutto il mio rispetto, perché sono dirigenti di alta specializzazione, se questo 50% deve essere messo in mobilità, mi spiegate come una persona interna alla struttura provinciale possa avere il giusto equilibrio, il giusto distacco per decidere chi deve andare in mobilità. Io credo che una persona esterna ha i requisiti specifici, soprattutto il distacco giusto, per fare un'analisi e per decidere quali sono quelle persone che devono necessariamente andare in mobilità. Guardate che parliamo del 50% di mobilità e parliamo di partecipate che hanno un numero di dipendenti, un numero di internazioni elevatissimo. Quindi, voglio dire, c'è bisogno non soltanto di persone capaci, di persone esperte, di persone che hanno anche un'intelligenza interpersonale capace di rapportarsi con gli altri, ma persone che devono decidere nel bene o nel male della vita degli altri.